La nostra storia è la vostra storia, che non è fatta solo di progetti e opere, ma soprattutto di uomini e donne che hanno pensato a tramandare un patrimonio. Abbiamo incoraggiato senza paura il territorio in tutte le sue iniziative di progresso. Abbiamo sostenuto le nostre famiglie, perché in famiglia, si sa, ci si aiuta. Abbiamo promosso l'arte e la cultura, generando idee e risorse. Abbiamo fatto studiare i nostri giovani, per prepararli al domani. Non è solo una questione di denaro da investire, è un racconto sociale, che coinvolge la comunità. Seguiamo i bisogni, non gli interessi. Per fare ricerca, aiutare chi ha bisogno, costruire archivi e organizzare manifestazioni artistiche, raccogliere i frutti del nostro territorio. Vogliamo contribuire, vogliamo incidere, vogliamo stimolare, vogliamo coinvolgere. Tradizionalmente rivolti al futuro. Per conoscere meglio il nostro passato, le radici di Caritro nel lavoro delle casse di risparmio di Trento e Rovereto. Un grande racconto che ci accomuna. Tutto è partito da qui, da noi. Lo facciamo per il Trentino, per la nostra terra. Seminiamo oggi per poter raccogliere domani. Fondazione Caritro. Insieme si cresce.